Dalla solidarietà al degrado rimosse le campane per gli abiti usati. L'amministrazione comunale ha deciso di rimuovere tutte le campane per la raccolta di indumenti usati sparse per la città. Troppe le segnalazioni dei cittadini che denunciavano le discariche che si sono formate attorno a questi cassonetti, ingombrando marciapiedi di ogni sorta di rifiuti, spesso maleodoranti. Dalla casa al volontariato intanto lanciano un appello. Non lasciateci vestiti e giocattoli usati davanti al cancello. Non possiamo raccoglierli. Fase 2. Nessun aumento di prezzi nei bar. I commercianti locali non stanno attuando rincari dei prezzi. In caso contrario, invitiamo i cittadini a segnalarceli. Le organizzazioni di categoria fanno sapere che la fase 2 delle riaperture, almeno in città, non è segnata dalla strategia del rialzo a tutti i costi. Le attività in riapertura non stanno attuando nessun rincaro di prezzi. Anzi, nonostante tutto, stanno promuovendo le loro attività con sconti e promozioni sugli articoli sui servizi in vendita garantiscono. Noi stamattina abbiamo fatto un giro dei bar. Patto per il Sud e progetti si cambia. Per mancanza del RUP, le vicissitudini amministrative che da anni accompagnano l'iter di progetti molto importanti come quelli del Patto per il Sud e le procedure finanziate dalle compensazioni minerarie, non smettono di aprire scenari preoccupanti. Il dirigente del settore lavori pubblici, Emanuele Tuccio, è stato costretto a un cambio in corsa per mancanza di RUP che possono seguire alcune delle procedure più complesse. Nel provvedimento parla di un settore che si trova a fare i conti con una continua contrazione di personale. Gasdotto Gela Malta, progetto in consultazione. Un progetto da circa 400 milioni di euro che verranno stanziati dal governo maltese. Anche il Ministero dell'Ambiente ha messo in consultazione pubblica le carte del Gasdotto Gela Malta che servirà a assicurare notevoli riserve di gas all'Isola dei Cavalieri. Probabilmente però saranno quasi inesistenti le rigadute economiche sul territorio locale. Stop ai dilettanti. Le gelesi pensano al futuro e ufficiale la conclusione anticipata dei campionati dilettanti di calcio con lo stop delle retrocessioni brinda il Gela FC che mantiene quindi le eccellenze e potrà cambiare denominazione. In seconda categoria il Gela lavora su una probabile ammissione d'ufficio in una categoria superiore. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario parlando ancora purtroppo di condizioni igienico-precarie Nella nostra città l'amministrazione comunale ha deciso di rimuovere tutte le campane per la raccolta di indumenti usati sparse appunto per i quartieri. Troppe le segnalazioni dei cittadini che denunciavano le discariche che si formano attorno a questi cassonetti ingombrando i marciapiedi di ogni sorta di rifiuti spesso malodoranti. Dalla casa del volontariato intanto lanciano un appello non lasciateci vestiti o giocattoli usati davanti al cancello. Non possiamo raccoglierli. Vediamo. Solo negli ultimi mesi sono decine le segnalazioni da parte dei cittadini circa il mancato svuotamento dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati presenti sul territorio ed il conseguente degrado che è possibile notare attorno agli stessi. Non essere indifferente era la frase promozionale utilizzata per incentivare i cittadini alla raccolta di indumenti, biancherie, scarpe, borse e giocattoli usati. Sempre più spesso però i contenitori venivano presi di mira da vandali soprattutto nelle ore notturne. Vengono svuotati e gli indumenti ritenuti di scarso valore vengono abbandonati e lasciati per strada. A questo si aggiungono i cittadini incivili che approfittano della presenza delle campane per gettare ogni tipo di rifiuto. Un disordine ambientale che ha costretto l'amministrazione comunale a rimuovere tutti i cassonetti per ripristinare il decoro urbano. Questo problema esiste già da un po' di tempo. Si era fatto la prova di variare la collocazione di questi contenitori degli indumenti pensando che un quartiere magari era migliore dell'altro. Invece ahimè non ha funzionato e diventano come giustamente hai detto ricettacolo di rifiuti abbandonati. E quindi siamo stati costretti, seppur esiste una convenzione con una società che non è la Tecra, di ordinare la rimozione di questi contenitori e stiamo cercando di capire se è possibile invece procedere con un sistema diverso tipo quello della raccolta degli incombrandi cioè fare magari una raccolta mensile o settimanale per quartiere. Vediamo un po', insomma stiamo lavorando su questo. Ma anche senza contenitori lo scenario davvero indecoroso riguarda le discariche che si sono formate attorno a questi cassonetti ingombrando i marciapiedi di ogni sorta di rifiuti spesso maleodoranti che nulla hanno a che vedere e con abiti, biancheria, scarpe eccetera. Quartiere Salesiani all'incrocio tra Via Ragusa e Via Napoli qui c'era una delle campane per il ritiro degli abiti usati e vedete quello che abbiamo qui davanti abiti che non potranno mai essere donati a nessuno ma che sono diventati rifiuti perché sono stati abbandonati in modo scriteriato non sono stati inseriti all'interno della campana e sono stati gettati a terra in qualsiasi modo. Assieme agli abiti naturalmente basta guardare qui all'interno del mucchio ci sono anche rifiuti di ogni genere e non è questo sicuramente il modo corretto di fare solidarietà. E questo ad esempio è una delle cose che succede ai vestiti abbandonati per strada come se fossero rifiuti diventano giacigli o coperte per i senza tetto che dormono in questa fermata dell'autobus proprio vicino alla parrocchia di Salesiani. Piazza Russello, Cantina Sociale, anche qui c'era una campana per il deposito degli abiti usati la campana ovviamente è stata rimossa ma come vedete tutti gli abiti usati che erano stati depositati qui sono ormai ridotti a dei veri e propri rifiuti e come rifiuti vanno trattati. I cumuli però, garantiscono dall'amministrazione, verranno rimossi già nelle prossime ore. Già giorno 20 abbiamo fatto un ordine di servizio alla Tecra successivo alla rimozione di questi contenitori per togliere tutto ciò che si era creato attorno ad essi e so con certezza che si sta procedendo alla rimozione di quelli. La rimozione delle campane per gli abiti usati ha però creato seri problemi ad esempio alla Casa del Volontariato davanti al cui cancello vengono adesso abbandonati i sacchi con i vestiti e i giocattoli usati che prima venivano lasciati nel contenitore del quartiere. Questa è solo una piccola parte di quello che i volontari della Casa del Volontariato trovano quotidianamente davanti al cancello c'è veramente di tutto, vestiti, scarpe, tanti giocattoli che però non possono essere in alcun modo riutilizzati o prelevati. Il responsabile della struttura, Gero Buongiorno, lancia un appello a queste persone. La Casa del Volontariato non può farsi carico dei sacchi abbandonati che non potendo essere sanificati saranno trattati come rifiuti. Abbandonarli in quella maniera significa lasciarle a merced di tutti e alla merced degli agenti atmosferici. Quindi l'invito che io faccio per adesso noi non stiamo raccogliendo niente perché abbiamo il problema della sanificazione degli oggetti e degli indumenti. Quando noi raccoglieremo i prodotti, gli indumenti e i giocattoli saranno le associazioni, l'abbiamo sempre detto che l'associazione incaricata per esempio per il ritiro dei giocattoli riceve il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Per gli indumenti sono il lunedì e il mercoledì perché poi gli indumenti vanno puliti, lavati e selezionati per le varie taglie. Quindi abbandonarli in questa maniera non è né buono per noi che li dobbiamo ricevere né anche per chi li dobbiamo consegnare. Gli accumuli lasciati in questa maniera per noi sono rifiuti. Adesso un'ultima ora appena arrivata in redazione grave incidente sulla statale 115 un motociclista è finito lungo il selciato stradale della Gela Manfria l'incidente che ha coinvolto un centauro 26enne si è verificato nei pressi di contrada femmina morta state vedendo le immagini prese appunto in presa diretta pochi minuti fa sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso i carabinieri hanno avviato gli accertamenti da quanto emerge ci sarebbe stato lo scontro con un furgone le condizioni del motociclista vengono monitorate proprio in questi minuti il giovane è un liga tesera in sella alla Suzuki che vedete in questo momento la strada è bloccata e sul posto sono arrivati anche i poliziotti nelle prossime ore sarà più chiaro il quadro clinico secondo una prima ricostruzione dei fatti la moto avrebbe azzardato un sorpasso all'inizio del rettilineo firendo però contro il furgone successivamente contro un guardrail saranno naturalmente le indagini a stabilire l'esatta dinamica del sinistro noi cambiamo argomento e parliamo della fase 2 di questo periodo in cui tutte le attività commerciali hanno ripreso più o meno a lavorare tra questi ci sono anche i bar, i ristoranti, gli operatori del food ma sembra che si sia messa in circolo una notizia strana secondo la quale ci sarebbero degli aumenti incontrollati dei prezzi forse per far guadagnare di più i commercianti per questo lungo periodo di chiusura così non è, lo dicono i commercianti stessi lo dicono anche le organizzazioni datoriali noi stamattina abbiamo voluto sincerarci che fosse vero andando a fare un giro proprio nei bar del centro storico vediamo dal giorno della riapertura delle attività dopo 70 giorni di lockdown cominciano a ripartire i bar, i ristoranti le attività del food comincia però a diffondersi anche una voce incontrollata cioè di un indiscriminato aumento dei prezzi del caffè, del cornetto o comunque delle cose vendute all'interno dei bar e dei ristoranti a noi è venuta la curiosità di andare a scoprire se tutto questo è vero vediamo cosa abbiamo scoperto il campione della nostra indagine sono stati i bar del centro storico e più frequentati durante il giorno e che da qualche settimana provano a rialzare la testa dopo un lungo periodo di chiusura primo bar, primo esperimento vediamo cosa scopriamo buongiorno, possiamo sapere quanto costa un caffè? 80 centesimi un caffè 80 centesimi e prima dell'emergenza invece quanto costava? sempre 80 centesimi e un cornetto? un cornetto costa un euro esattamente come prima dell'emergenza è stato sempre un euro il cornetto quindi nessun aumento? no, nessun aumento semmai la compcommercio metta questo aumento noi le mettiamo però sempre dipende dalla compcommercio lo stesso light motif prosegue anche per gli altri locali del centro allora intanto ti faccio la domanda principale quanto costa un caffè? 0,80 centesimi e prima dell'emergenza quanto costava? sempre 0,80 centesimi significa che non avete effettuato nessun rincaro sui prodotti? completamente, sempre uguale com'è andata da quando avete riaperto? discretamente, dai avete riaperto veramente da pochissimo la domanda che ti voglio fare è quanto costa il caffè oggi? noi abbiamo lasciato i prezzi che erano prima sempre a 0,80 centesimi direttamente sul banco quindi nessun aumento su nessun tipo di prodotto? no, no, niente completamente, sono rimasti i prezzi per come erano prima allora quanto costa un caffè preso al bar? al bar 80 centesimi, come sempre come da più di vent'anni che i prezzi non sono stati rialzati significa che da prima dell'epidemia costava sempre 80 centesimi? sempre 80 centesimi ma tutto, tutto, non è aumentato niente anzi c'è qualche carezza in qualche cosa per abbandeggiare il cliente abbiamo un po' abbassato qualcosa ma non aumentare perché non era possibile aumentare in un periodo del genere il prodotto l'unica lamentella da parte dei gestori è legata alla ripartenza ancora troppo lenta con una quantità di clienti ancora esigua abbiamo aperto tanto per aprire e essere praticamente in corsia di partenza sperando che nei giorni che vengono abbiamo un miglioramento negli esercizi il calo c'è, si vede abbastanza, ancora c'è gente pochissima ci sono pochissimi giovani in giro tentiamo adesso che hanno autorizzato a mettere i tavolini fuori abbiamo presentato un progettino speriamo che il comune ci autorizza e vediamo un pochettino come va più avanti a confermare che la notizia degli aumenti indiscriminati fosse una fake news e nulla più anche le associazioni di categoria è logico che un'attività commerciale specialmente pubblici esercizi che hanno la fidelizzazione dei clienti debbano aumentare i prezzi dei servizi e quindi dei prodotti noi abbiamo segnalato che ci possa essere questo evento ma credetemi a Gela abbiamo fatto veramente un sondaggio nessuno ha voglia di aumentare i prezzi anzi molti si stanno diciamo così organizzando per fare delle promozioni vere e proprie delle loro attività tant'è vero che ci siamo organizzati come associazione datoriale a lanciare un hashtag che a breve avremo anche voglio dire un riscontro a livello regionale parlando con il nostro presidente io compro a Gela questo per incendivare l'economia non per distruggerla naturalmente le associazioni esortano chi dovesse verificare degli aumenti incontrollati a denunciare anche in forma anonima se si notano aumenti di prezzi indiscriminati e non riscontrando un aumento della qualità o del servizio venite a denunciare scrivitemi in privato sui social sarà nostra competenza andare a verificare con opportune diciamo controlli e come vedete alla fine nessun tipo di aumento sul caffè sul cornetto potete tranquillamente recarvi al bar a gustare il vostro buon caffè e a proposito di fase 2 diamo un'occhiata al report quotidiano dell'ASP riguardo alla situazione dei contagi sale a 16 in totale il numero dei guariti dall'inizio dell'emergenza in città un altro paziente che era in isolamento domiciliare ha superato il contagio da covid in base ai dati forniti da ASP adesso risulta guarito si aggiunge ai tre guariti di Caltanissetta agli altrettanti guariti a Delia ai quattro di Mussomeli ai due pazienti di Mazzarino e di Serra di Falco un altro dato che conferma come il picco dell'allerta almeno in città e in provincia appaia al momento superato a Montedoro però sono stati registrati due casi sono un operatore e un ospite di una casa di riposo un altro paziente invece è stato dimesso al reparto di malattie infettive del Sant'Elia di Caltanissetta risiede a Montedoro ed è a sua volta guarito andiamo avanti e cambiamo argomento parliamo di Patto per il Sud le vicissitudini amministrative che da anni accompagnano litere di progetti molto importanti proprio come quelli del Patto per il Sud e le procedure finanziate delle compensazioni minerarie non smettono di aprire scenari preoccupanti il dirigente del settore lavori pubblici Emanuele Tuccio è stato costretto a un cambio in corsa per mancanza di responsabili unici del procedimento che possono seguire alcune delle procedure più complesse nel provvedimento si parla di un settore che si trova a fare i conti con una continua contrazione di personale Rosario Calchi da sempre uno dei principali sintomi del malessere della burocrazia comunale mancano i responsabili unici dei procedimenti e quei pochi che sono disponibili devono necessariamente sombarcarsi maggiori oneri e più incarichi compresi quelli delle loro funzioni tra i settori dell'ente è inevitabile che tutto ciò vada a gravare su procedure importanti come quelle di diversi progetti del patto per il sud e di ter finanziati con le compensazioni minerarie come se non bastassero gli inconvenienti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni con il culmine del taglio dei 33 milioni di euro che coprivano buona parte dei progetti in municipio arriva un altro cambio in corsa è stato disposto un rimescolamento dei RUP dopo il trasferimento del funzionario Santi Nicoletti al settore ambiente dove svolge anche le mansioni di direttore dell'esecuzione nel contratto per il servizio rifiuti un sovraccarico che lo ha spinto a lasciare l'incarico di RUP che aveva assunto per i progetti dell'Orto Pasqualello dell'area nord del museo di Porta Vittoria e del sistema di illuminazione della pista ciclabile il dirigente del settore lavori pubblici Emanuele Tuccio ha assegnato all'ingegnere Salvatore Lombardo l'incarico di RUP nei progetti dello stadio di Marchitello e dell'Orto Pasqualello l'architetto Mario Cernigliaro si occuperà dell'area nord del museo di Porta Vittoria il progetto dell'illuminazione della pista ciclabile invece è stato assegnato al geometra Giuseppe Catania il dirigente Tuccio nel provvedimento richiama uno stato di stallo che andava comunque superato per evitare ulteriori ritardi che già gravano pesantemente su procedure che sono ancora sotto stretta osservazione da parte della regione al centro di un braccio di ferro politico lo stesso dirigente spiega che il settore lavori pubblici ha subito una rilevante contrazione di personale tecnico già dalla seconda metà del 2019 non un buon auspicio per un municipio che dovrebbe puntare a salvaguardare i finanziamenti concessi non riescono neppure a tenere le finestre aperte delle loro abitazioni tra le strade del Residence Lagave e Emergenza Insetti e Moscerini un vero e proprio assalto in una zona ridosso di Montelungo la presenza soprattutto ai Moscerini sta diventando sempre più grave ma in tutta la città con tanti bambini anziani la situazione non è sicuramente delle migliori molti residenti hanno cercato di chiedere l'intervento del comune ma pare che non abbiano avuto alcuna risposta si sentono abbandonati e non è la prima volta che reclamano più attenzione da Palazzo di Città questa volta probabilmente sono vittime della mancata bonifica che sta alimentando la fastidiosa presenza di insetti e moscerini e cambiamo ancora argomento parliamo del gasdotto Gela Malta un progetto da circa 400 milioni di euro che verranno stanziati proprio dal governo maltese anche il Ministero dell'Ambiente ha messo in consultazione pubblica le carte del gasdotto che servirà ad assicurare notevoli riserve di gas all'Isola dei Cavalieri probabilmente però saranno quasi inesistenti le ricadute economiche sul territorio locale vediamo se ne parla ormai da anni e le procedure preliminari proseguono anche il Ministero dell'Ambiente ha messo in consultazione le carte del progetto di gasdotto previsto tra la Sicilia e Malta il sistema di pipeline collegherà le costeggelesi e quelle maltesi di Delimera compreso una stazione terminale ubicata sull'Isola dei Cavalieri i funzionali del Ministero hanno messo a disposizione anche una sintesi non tecnica in lingua italiana dell'intero progetto l'obiettivo è assicurare consistenti rifornimenti di gas a Malta così da garantirne l'autosufficienza l'impegno finanziario delle autorità della Valletta è pesante si calcola un investimento non inferiore ai 400 milioni di euro sul territorio italiano il sistema di collegamento passerà principalmente dall'area ridosso della riserva biviere e in passato ci sono stati alcuni incontri tra i responsabili dell'area protetta i tecnici incaricati dal governo maltese il maxiprogetto in fase di elaborazione da quando a Palazzo di Città c'era ancora l'ex giunta messinese che avviò i primi rapporti istituzionali con le autorità maltesi in realtà il nuovo gas dotto una volta realizzato non dovrebbe produrre particolari introiti sul territorio locale questo è un punto piuttosto delicato dell'intera vicenda anche se per un certo periodo si ipotizzava la possibilità di incamerare delle compensazioni ad oggi non ci sono grandi certezze sul tema secondo le linee tecniche principali il gas dotto coprirà una distanza di circa 159 chilometri la gran parte a livello sottomarino ormai da anni il progetto è classificato di interesse comune europeo consentirà forniture di gas dalla Sicilia verso Malta nella prima fase ma anche viceversa in una fase successiva in una nota ministeriale si precisa che la fase 1 della condotta avrà una capacità di 1,2 miliardi di metri cubi all'anno e un flusso garantito di 141 mila metri cubi per ora sulla scorta di un accordo raggiunto l'anno scorso dai regolatori di taglie Malta Arera e Revs i circa 400 milioni di euro necessari alla costruzione del gas dotto ricadranno interamente sul sistema maltese curioso episodio ieri pomeriggio in centro storico in via Cairoli il transito veicolare è stato dirottato per l'intera giornata in via Filippo Morello e di conseguenza in corso Vittorio Emanuele per consentire una serie di lavori nel tratto che porta a piazza Roma un cartello posizionato dalla ditta come vedete nelle immagini obbligava le auto a deviare verso il corso cittadino peccato che nessuno abbia pensato che dalle 18 in poi si attivava la ZTL in corso Vittorio Emanuele morale della favola decine di automobilisti non sapendo dell'interruzione sono stati costretti a deviare verso il centro in piena ZTL e quindi a rischio automatico di multe diverse le segnalazioni giunte in redazione per segnalare questo disservizio e quando qualche cittadino ha chiamato il comando Vigilurbani per segnalare l'anomalia il cartello è stato semplicemente girato al contrario ovvero con direzione obbligatoria sempre in via Filippo Morello ma verso via Istria e via Colombo la frittata però ormai era già fatta e in tanti hanno subito la multa adesso serve un provvedimento per annullarla cambiamo argomento andiamo alla cronaca giudiziaria i fatti risalgono all'estate dello scorso anno qualche settimana prima che il colonnello Ivan Boracchia si insediasse nel reparto territoriale di via Venezia sarebbe stato un ex carabiniere a intimidire il colonnello e a dare alle fiamme la moto del colonnello e altri mezzi parcheggiati nell'area antistante il complesso abitativo dove il militare viveva a Messina l'ex carabiniere è stato arrestato e si ipotizza che l'abbia fatto perché Boracchia stava indagando sul suo conto approfondendo una vicenda di concussione vediamo il rogo in un'autorimessa attivo ad un complesso residenziale di Messina esplose nell'agosto dello scorso anno vennero date alle fiamme un'automobile e quattro moto a colpire sarebbe stato un ex carabiniere 52enne congedato per motivi disciplinari secondo gli investigatori messinesi entrò in azione per intimidire il colonnello Ivan Boracchia che solo poche settimane dopo prese servizio al reparto territoriale di via Venezia che comanda da poco meno di un anno il militare che ha diretto il nucleo investigativo della città dello stretto aveva avviato un'indagine nei confronti di Salvatore Scardigno l'ipotesi era di concussione l'ex carabiniere per tutta risposta avrebbe preso di mire il mezzo che il colonnello aveva parcheggiato nell'autorimessa le fiamme però si sarebbero propagate ad altre moto e a un'auto Scardigno è stato arrestato e trasferito nella carcere di Gazzi avrebbe già a suo carico altri procedimenti penali adesso dovrà rispondere di incendio aggravato Boracchia e i suoi uomini avevano avviato l'indagine sulle 52enne noto a Messina anche per alcune plateali proteste sono stati i propri carabinei del comando provinciale a mettergli le manette ai polsi a trasferirlo in carcere in attesa di essere interrogato sarebbe stato individuato dopo l'esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza il tatuaggio che raffigura lo stemma del nucleo radiomobile di Messina e la maglietta indossata al momento di colpire sarebbero i due elementi che hanno consentito agli ex colleghi di risalire alla sua identità Gela Pulita è l'iniziativa promossa per sensibilizzare la comunità gelese in particolare i più giovani sul rispetto delle aree urbane comuni domenica 24 maggio alle 11.30 appuntamento presso il playground muniti obbligatoriamente di mascherina e di guanti per pulire le aree della zona est di Macchitella l'iniziativa naturalmente è aperta a chi volesse basta presentarsi domenica 24 maggio alle 11.30 presso il playground della rotonda est di Macchitella e continuiamo a parlare di sport perché è ufficiale la conclusione anticipata dei campionati dilettanti di calcio con lo stop delle retrocessioni brinda il Gela FC che mantiene quindi l'eccellenza e potrà così cambiare denominazione in seconda categoria invece il Gela lavora su una probabile ammissione d'ufficio in una categoria superiore vediamo lo stop è adesso ufficiale si fermano tutti i campionati dilettanti così ha il consiglio federale della federazione italiana gioco calcio che costringe ora la lega nazionale dilettanti a studiare le linee guida riguardo le promozioni e le retrocessioni per la stagione 2019-2020 ci sono già indiscrezioni su quali saranno i criteri da adottare per i campionati dilettanti di eccellenza promozione prima e seconda e terza categoria e per i campionati giovanili sia regionali che provinciali andiamo nel dettaglio nel campionato di eccellenza saranno promosse nel campionato di serie D le prime squadre classificate al momento dello stop del campionato quindi la Dattilo Noir per il girone A e Paternò per il girone B le squadre seconde classificate dovrebbero essere inserite in una classifica di merito per ripescaggio in serie D Acragas Canicattia e Sant'Agata sperano nessuna retrocessione sarà prevista nella categoria inferiore nel campionato di promozione sarà lo stesso il metro di giudizio usato questo significa che il Gela Football Club si può ritenere salvo e certo di poter disputare il prossimo anno il torneo di eccellenza la società del presidente Luigi Rivecchio sta già programmando la prossima stagione partendo dal cambio di denominazione via il Città di Scordia che sarà sostituito da Gela Football Club diversa la situazione per l'amatori Gela che oltre a cambiare nome probabilmente si chiamerà semplicemente Gela proverà a cambiare categoria nel momento della sospensione del campionato di seconda categoria la squadra era in zona playoff e in corsa per la Copta in Acria il club del presidente Maurizio Melfa tenterà di ottenere un posto in una categoria più dignitosa tutto dipenderà da cosa accadrà nel post-covid lo stesso presidente Cosimo Sibilia ha detto chiaramente che il 30% dei club dilettanti rischia di non iscriversi la prossima stagione si aprirà il solito walzer di ripescaggi e ricorsi vari la LND deve riscrivere i format dei vari campionati le indiscrezioni lasciano pensare ad una ripresa dell'attività dilettanti giovanile in autunno se non addirittura in inverno con l'introduzione di più gironi per categoria con meno squadre determinati dal blocco delle retrocessioni e playoff e playout per decidere promozioni e retrocessioni Bene, questo era il nostro ultimo servizio siamo in chiusura naturalmente se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianovigela.it se invece volete rivedere tutti i nostri servizi li trovate sulle nostre pagina social Facebook e Youtube per il momento è tutto non ci sono altre notizie grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti